Far vedere come e che cosa nei tempi recenti ha prodotto appunto il dialogo tra discipline apparentemente lontane, apparentemente differenti, tra mondi apparentemente molto diversi tra di loro e che però ha impegnato per 30 anni non autori banali ma un premio Nobel per la fisica come Paoli e dall'altra parte uno dei maggiori psichiatri, psicologi, conoscitori del mondo interiore dell'epoca e cioè Jung.